Buongiorno a tutti cari amici di JazzEspresso e benvenuti alla seconda puntata della recensione in 58 secondi. Io sono Eugenio Milti e oggi vi parlo di Paolo Corsini, brillantissimo pianista che insieme ad Alessandro Trucchetta al contrabbasso e Luca Colussi alla batteria ha da poco pubblicato il suo album da leader che si intitola Let's Start From Here per la Jazzy. Il disco mi ha avviso numerosi motivi di interesse, il primo dei quali è che questo trio, un trio che suona insieme da tanti anni e quindi i musicisti si conoscono e questo rapporto, queste conoscenze e complicità naturalmente esce nelle esecuzioni dei brani. Sono tutti originali di Corsini, sono particolarmente interessanti e riallacciano la tradizione del jazz, ma suonano anche contemporanei, c'è un po' del passato, un po' del presente, un po' del futuro. E infine in un sistema dove molti dischi per piano trio sono scialbi o hanno pochi motivi di interesse, questo disco è particolarmente ben scritto, ben suonato e ben arrangiato. I brani secondo me da ascoltare sono Short R e By The Way. Ciao, grazie e alla prossima.